Salta l'incontro alla Capitaneria di Vibo Valencia sul tema Porto di Diamante, ma non c'è da aver paura. È stata l'amministrazione comunale ad optare per il rinvio, anche perché l'incontro non sarebbe stato finalizzato agli aspetti operativi sulla ripresa dei lavori, ma al tema dell'interdizione dello specchio d'acqua. L'amministrazione vuole invece parlare con il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Zinno, per capire in che tempi saranno portate a termine le burocrazie ulteriori. E vuole farlo presto, a stretto giro, come si dice in questi casi, che tradotto potrebbe significare entro la fine della settimana o al massimo durante la prossima. Vista la decisione dello scorso 23 gennaio che informava della inutilità della valutazione di impatto ambientale per la variante a terra, dal Palazzo di Città aspettano solo l'inizio dei lavori, ma in questi casi è bene farsi sentire, in maniera istituzionale per carità, ma guai a mollare la presa. Perché se è vero che la situazione sembra essere arrivata ad un nuovo, l'ennesimo punto di svolta, è vero anche che ci sono voluti tre anni per avere un parere, anzi per sentirsi dire che quel parere non era necessario. Tempo che pesa sul morale della gente, sulla speranza di vedere il porto finito e sulla fiducia verso tutto l'apparato tecnico-politico. Oggi però c'è un nuovo governo regionale, una nuova giunta e un nuovo presidente che, da quanto si legge sulla stampa regionale, a firma di esperti conoscitori dell'universo politico calabrese e del PD in particolare, sembra abbia ritrovato il vecchio feeling con il segretario regionale del PD Ernesto Magorno, ex sindaco di Diamante, che aveva avviato da primo cittadino il faticoso Iter e che avrebbe voluto inaugurare la struttura con la fascia tricolore. Pazienza se toccherà ad un altro, ma il parlamentare calabrese può comunque giocare un ruolo in questa partita. E il privato? Certo toccherà anche alla ditta confrontarsi con i dirigenti regionali, anche se a questo punto, e per come è stata messa la questione dalle parti politiche, non dovrebbero esserci ostacoli alla ripresa dei lavori. A parte il nodo dei costi, che dal 99 ad oggi sono lievitati, e per risolvere il quale potrebbe tornare di moda qualche soluzione già proposta in passato, come quella dell'azionariato popolare. Grazie.